16 febbraio 1848, l'esercito borbonico è costretto ad abbandonare Catania in rivolta. Dopo più di un mese di scontri e tumulti in tutta la Sicilia, originati dai moti scoppiati il 12 gennaio a Palermo, viene ripristinata la Costituzione Democratica del 1812. Essa resterà in vigore fino alla restaurazione del maggio 1849, quando i Borboni riconquistano con la forza il controllo dell'isola. Grazie a tutti!